Sì siamo qui tornati a fare un vlog Scusate se in alcuni pezzi non mi vedrò perché essendo che non ho ancora la telecamera mi vedo male essendo che ho il telefono si vede pochissimo proprio niente penso che a voi bassi l'audio però mi dispiace anche un po' che non mi veda essendo che devo ancora comprare la telecamera sto aspettando che voi raggiungiate almeno i 30 iscritti cioè questo vorrei che lo faceste per Natale perché a Natale i miei mi regalano la telecamera comprate la telecamera io potrò fare i video bene magari se mi metto un po' più vicino adesso mi vedete un po' meglio ma giusto un pochino comunque volevo dire essendo che è Natale vorrei questa telecamera che a me farebbe molto molto comodo anche per fare i video per YouTube per caricarli però avrei bisogno di un cavetto quindi devo aspettare che ne rinvi sia la telecamera che il cavetto e a me dispiace fare questi video un po' arronzati aspettate che devo attraversare penso che adesso mi vedete un po' meglio ma neanche tanto penso però comunque volevo dirvi che un altro vlog magari lo caricherò vuoi che torno a mercoledì lo caricherò giovedì che sarà l'immacolata prima di andare a fare un po' di servizi per il mio paesino comunque vi stavo dicendo infatti questi 30 iscritti comprerò sia la telecamera che il cavetto può farsi vedere un po' meglio perché c'è la luce di qualche finestra dove lavorano comunque c'è un signore una signora che mi sta guardando in modo stranissimo vabbè però sorboriamo ma torniamo a noi comunque sto tipo passando in mezzo a una strada però non fa niente perché qua ci manca il marciapiede quindi 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 torniamo a noi aspettate che devo attraversare la strada faremo ecco forse quindi si vede un po' meglio perché stanno delle gozzi e quindi c'è la luce fuori ma neanche tanto penso perché queste luci sono leggermente deboli quindi quindi volevo dirvi che caricherò più video e anzi sto pensando anche a fare qualche prank dei miei amici magari su whatsapp magari faremo qualche prank alla mia migliore amica o al mio miglior amico non lo so comunque cosa pensate voi fatemelo sapere nei commenti e anche perché mi dovrò decidere prima o po' cosa fare e se non mi decido non so cosa fare e voi rimarrete senza video questa settimana perché ho quasi di solito tutte le mie idee magari domani farò uno specchettamento e domani alle 3 giusto alle 3 farò questo specchettamento e su fifan poi farò un paio di battaglie su trash royale alle 6 domani e poi mercoledì giovedì ci sarà questo vlog che basterà penso per tutta la settimana per tutto il giorno poi non so magari caricherò qualche challenge o appunto come stavo dicendo questo prank non lo so però al prossimo video ciao